Ciao, sono Cecilia Sardeo, fondatrice di Beats Academy e se ti trovi spesso imbambolato di fronte ad una pagina bianca colto, anzi colpito da un improvviso blocco dello scrittore, questa puntata di Impact Girl fa assolutamente al caso tuo. Ma prima di immergerci nei dieci comandamenti dello storytelling per arrivare al cuore di chi ci ascolta, ricordati di iscriverti al canale YouTube attivando la campanella che trovi accanto al pulsante iscriviti se stai guardando questo video da YouTube e di iscriverti via mail al podcast se stai guardando questo video dal sito beats-academy.it slash podcast. Solo così potrai assicurarti di non perderti neanche una puntata. Cominciamo. Ciao a tutte e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl, protagonista della quale oggi è Lara Lago. Ciao Lara. Ciao a tutti. Allora, prima di introdurvi Lara, vi accenno già al topic che andremo ad affrontare nei prossimi minuti. Storytelling per arrivare al cuore delle persone, cosa non facile soprattutto quando non abbiamo alcun talento nella scrittura, ma difficile anche quando il talento ce l'abbiamo e non sappiamo esattamente qual è la formula che dovremmo replicare quando vediamo appunto un sacco di storytellers là fuori che diventano influencers per il proprio brand o semplicemente per il brand altrui e che restiamo incollati, incantati ad ascoltare e a leggere per ore. Lara, tu sei a tantissime cose. Troppe forse, devo aggiungere. Allora troppo poche, dobbiamo aggiungerne. Tu sei al momento project manager a Sky, ma sei anche giornalista e queste sono solo due cose perché hai fatto un sacco di esperienze lavorative incredibili, in parte anche grazie, dicevamo proprio poco fa, alla visibilità che scrivere sui social ti ha dato, scrivere in maniera particolare attraverso il racconto di storie. Quindi raccontaci come fai, da dove parti, hai la tua canvas bianca e la tua tela, cosa ci scrivi sopra? Allora, io ho iniziato non tantissimo tempo fa, la passione per la scrittura ce l'ho avuta da sempre, proprio una cosa che da piccola, quando ero proprio 7-8 anni scrivevo il diario, venivo in cucina dai miei genitori e lo dovevo leggere a voce alta perché dovevano ascoltarmi e dirmi che ero stata brava a fare il compitino. Poi a scuola sono sempre andata bene, tipo con i temi, quelle cose lì e facevo tipo concorsi di scrittura, tanto che volevo che la scrittura fosse proprio il mio lavoro e da lì in realtà che poi sono diventata una giornalista, quindi è proprio l'amore, cioè è quella che io sento un po' come la mia vocazione. Adesso tu mi dici, tu sei venuta al mondo per che cosa? Io ti dico, ma io penso per scrivere, quindi partiamo da qui. Poi il discorso dei social, all'inizio, quando tanti anni fa non sapevo bene Facebook come usarlo, lo usavo come tutti, cioè usavo, mettevo una foto con il solito buona giornata o oggi sono felice o oggi sono triste per dirti, ma non portava da nessuna parte. Quando poi ho cominciato ad aprirmi un po' di più e a dire ma sai che c'è? Facebook può essere un posto dove la gente ti può leggere, mi piace scrivere, proviamo ad unire queste due cose e da lì sono successe le magie, nel senso che io lo faccio sistematicamente da qualche anno, sarà quattro anni più o meno che lo faccio, quattro o cinque anni, prima era una cosa più sporadica, poi però ho iniziato a vedere a un certo punto che se io condividevo delle cose più vere, la gente rispondeva e lì ho cominciato un po' a prenderci gusto, ecco mettiamo così. Mi chiedevi da dove inizio? Secondo me il primo punto da dove iniziare è l'ispirazione, se tu non sei ispirata tanto vale che ti metti a scrivere, perché per me scrivere vuol dire dare un nome alle mie emozioni, che è una cosa che a livello da psicoterapeuta fa benissimo, cioè io sento qualcosa, vuoi rabbia, vuoi felicità, vuoi dubbio, se io riesco a metterci le parole giuste e a scriverla mi rendo più chiara anche la cosa per me, quindi è un modo anche un po' per aiutarmi a vivere, se lo vuoi chiamare così, però appunto devi essere in quel momento, cioè devi essere ispirata, devi avere qualcosa che ti sta ribollendo in pancia piuttosto che in testa e devi avere l'esigenza, l'urgenza narrativa di dire adesso io questa cosa la devo scrivere. Ti chiedo, ti fermo subito per chiederti come combini questo principio importante del essere ispirata con le regole molto meno ispiranti di un algoritmo dei social o semplicemente di un blog, perché adesso noi parliamo di social ma tu scrivi, puoi scrivere ovunque, voglio dire puoi scrivere se sei una giornalista, hai delle scadenze, devi scrivere che tu sia ispirata oppure no, quindi hai un modo per trovare quell'ispirazione quando ti manca per troppi giorni? Allora, il luogo è molto importante, se tu sei in un posto, beh quando scrivo gli articoli proprio per i giornali, io tra le altre collaborazioni che ho scrivo per un giornale che si chiama La Voce di New York, e ogni tanto lì dovevo scrivere delle cose, avevo il mio laptop con la famosa barretta che lampeggia e ti guarda e tu la dici ok e adesso a noi. Lì l'incipit, devi sapere che l'incipit di un pezzo come anche di un posto non cambia niente, è la parte più importante, cioè la prima riga, le prime due righe, tu già al lettore hai spiegato se resterà con te fino alla fine o se lo perdi, perché devo proprio prenderti. Ti devo dire anche che i social, ma Facebook ha cambiato il mio modo di scrivere, perché prima dovendo scrivere articoli ero molto più scialla, cioè quando scrivevo articoli di cronaca nera eccetera, pubblichi sul giornale, là non hai il lettore che mette like o non mette like, speri sempre che ti leggano in tanti ma non lo sai, invece avere il ritorno diretto, immediato, ti cambia, ti cambia proprio. Infatti se vuoi ti racconto un aneddoto, che una delle prime volte, ma in realtà non era neanche uno dei miei primi post, io inizio a scrivere un post, non mi ricordo nemmeno il tema, ma vedo che, io in genere posto sempre questo post lungo, fai conto una ventina, trentina di righe con una foto, vedevo che secondo me avevo scritto una cosa bella, ma la gente non rispondeva, e dopo dieci minuti avevo tipo due like, dico ma com'è possibile? Quindi faccio questo esperimento con il lettore, cambio l'incipit, tengo il post esattamente com'è, però invece di fare l'incipit che dice, che parte da distante, vado proprio quello che si chiama il media stress, sono qui, mi sta succedendo questo, in questo momento penso che aiuto aiuto, che ne so, capito? E cambiando l'incipit ha cominciato a scendere i like, ad arrivarmi i like, quindi era quello, avevo sbagliato l'incipit. E il ritmo della scrittura, cioè dove devi essere molto stretto, devi dire tante cose in poco tempo usando frasi corte, altrimenti Facebook quando tu lo guardi, quando sei in macchina ferma il semaforo, quando sei in fila alla spesa, comunque non è che non tutti si prendono il tempo giusto per leggere i post, quindi devi essere fruibile a un mercato veloce, e quindi la mia scrittura è diventata più veloce. Veloce ma non priva di dettagli, perché quando io ti leggo, e vi consiglio ragazzi di andare a cercare Lara, sia su Instagram che su Facebook, perché i post sono fenomenali, e resti incollato, quando io resto incollata a leggere i tuoi post, noto che ci sono un sacco di dettagli che poi mi portano al dettaglio successivo e al dettaglio successivo, quindi devi trovare questo equilibrio giusto, fra quello che è la rapidità, senza però diventare troppo generica, perché se no non è più una storia. Ma perché anche quella del dettaglio, ad esempio, è una cosa fondamentale, se io ti racconto un fatto per macrosistemi, tu non lo vedi, a me uno degli commenti più belli che mi fanno è, quando ti leggo mi sembra di essere là con te, oppure mi sembra di vedere un film, perché te lo devo far vedere, io ti devo dire, la Cecilia ha la maglia nera, ha il rossetto rosa, tu lo devi vedere, tu devi avere, quando leggi un libro, è così, tu ti fai un'immagine visiva, il film lo stai leggendo, cioè è come se tu comunque la tua testa, le immagini le crea, quindi il mio compito da scrittrice è metterti nella condizione di darti gli strumenti per creare queste immagini, quindi tantissimi colori, ad esempio, e anche la musicalità della scrittura, perché comunque è una cosa che anche se ti legge a voce alta, secondo me dovrebbe, nella migliore delle ipotesi, funzionare. Quindi può essere, per fare un esempio concreto sulla musicalità, non troppe parentesi, o incidentali, o troppe punteggiature, quindi brevi frasi, frasi brevi che quindi rendono la narrazione veloce, senza per forza renderla generica. E poi semplici, soggetto, verbo, complemento, andare a fare le tiritere, secondo me non serve, o meglio, lo puoi fare come esercizio di stile, una volta ogni tanto ci sta, io amo gli esercizi di stile, peraltro, però secondo me non sono funzionali alla causa, nel senso non ti portano a, sì, devi essere semplice, ti devi capire tutto. Quando ti dicono, quando studi giornalismo, ti viene detto, che tu devi scrivere per la casalinga di Voghera, è vero questa cosa qua, è vera, cioè io devo andare da mia nonna, e dire la nonna, ma sta cosa l'hai capita? Se mia nonna mi dice di no, magari spero che il mio pubblico sia un pelino più giovane, quindi la lascio passare, e dico, beh, questo è il problema della nonna, e non forse del testo, però, cioè, un testo buono, è un testo che capiscono tutti, questo sicuramente. Quindi, possiamo riassumere questo, in realtà vorrei tornare all'ispirazione, però prima voglio riassumere questi due aspetti di cui abbiamo parlato, in regole che possono poi essere concretizzate. Allora, l'incipit è la parte più importante, troveremo, poi a breve ti chiederò, come trovi l'ispirazione per quell'incipit, ma prima, mi viene da riassumerla con la, potremmo chiamarla, la regola di Steven Spielberg, per cui, quando leggi, devi riuscire a immaginarti un film, cioè un regista, se tu dessi quel testo ad un regista, quel regista dovrebbe essere in grado di fare la scena di un film. Infatti, ho fatto anche dei corsi di sceneggiatura, perché secondo me sono cose molto collegate. Molto collegate, bellissima questa cosa, e poi, hai nominato, tu hai nominato la casalinga, io ricordo la regola che mi dissero a un corso di copywriting, i tuoi nipotini, o i tuoi figli, i tuoi bimbi, devono essere in grado, i bimbi di qualcun altro che sia, insomma, un bambino di 12 anni, deve essere in grado di capire quello che stai leggendo, quindi, non cercare di fare troppo il sofisticato, ma cerca di giocarti. parli lettori, cioè, anche se, soprattutto se fai il sofisticato, che il lettore, se ti percepisce un pelo snob, sei fuori, hai finito, cioè, nel senso, devi proprio essere vicino al lettore, sei il suo migliore amico, e gli stai raccontando qualcosa, possibilmente facendogli vivere un'emozione, sai che c'è, io ho vissuto questa emozione, ora la faccio vivere anche a te, questo secondo me è proprio la base, il tappeto da cui parti. Ok, e all'inizio però hai detto, il luogo è fondamentale, per l'ispirazione, per l'ispirazione, ad esempio? Ad esempio, io, quando ero più piccola, scrivevo, con le gambe incrociate, seduta sul lettone dei miei genitori, quando ero adolescente, e se tu mi mettevi seduta a gambe incrociate sul mio letto, la magia non funzionava, per dirti, adesso scrivo bene, se ho la musica, se ho la mia musica, devo dire che ci sono delle cose anche un po' paranoiche, del tipo, che se sento una canzone che mi ispira, la metto in loop, quindi fino a che non ho finito di scrivere, tipo so per 20 minuti, andrà sempre quella stessa canzone, perché quel mood che mi tira fuori quella canzone, devo tenerlo per il periodo che sto scrivendo. Ok. Poi, mi piace scrivere molto di domenica pomeriggio, non chiedermi perché, però forse è il momento in cui non hai, non sei impegnato con la routine della settimana, ed è un momento in cui, beh, per postare la domenica sera è uno dei momenti migliori, quindi hai anche una sorta di deadline, che si sta avvicinando, quindi tu dici, ok, sono le 4 di domenica pomeriggio, se scrivo un post adesso, e sono in grado di postarlo alle 7, sicuramente funziona, e questa cosa, è come un boost, no, ti carica molto, e quindi a me, io credo che le cose migliori le ho scritte di domenica pomeriggio, e poi io scrivo di notte, scrivo di notte perché, la cosa che mi piace è pensare che il mondo sta dormendo, ma io sono sveglia per produrre dei contenuti, e le stesse cose, cioè il momento in cui estranearsi proprio, ed è un momento per te, perché alla fine scrivere è una cosa estremamente intima, quindi tu devi avere proprio un momento in cui, ti senti protetta nella tua intimità, la notte mi dà l'idea di protezione, quindi potremmo riassumere questa cosa, in modo che possa essere poi replicata all'esterno, come testiamo vari momenti, osserviamo, osserviamo come ci sentiamo in vari momenti, della nostra settimana, della nostra giornata, e proviamo senza la pretesa magari di trovarlo subito, a capire qual è il contesto che ci può aiutare, ad essere più creativi. Cioè la mia domanda è, c'è un momento in cui tu ti senti e dici, oh, finalmente adesso è proprio il momento in cui io posso essere io, senza, non ho nessun tipo di preoccupazione, non devo pensare che devo fare la spesa, sono tranquilla, posso proprio concentrarmi su di me e su quello che voglio esprimere. In quel momento era il momento giusto per scrivere. Punto 2. Secondo me. Allora il punto 1 era l'ispirazione. Il punto 2 è andare in piccolo, ai punti ovviamente sono i punti, io quelli che chiamo i 10 comandamenti per lo storytelling sui social media. Questo sarà anche il titolo della nostra puntata, perché mi piace il da morire, ed è a prova di storytelling. A prova di storytelling, va benissimo. Quindi punto 1, sentirsi ispirati. Punto 2. Andare in piccolo. Quello che un po' anticipavamo anche prima, i dettagli. Se io ti racconto una cosa a massimi sistemi, sempre sulla superficie, senza mai approfondire, cosa ti passo? Nel senso, secondo me, ha poco senso. Andare in piccolo, io intendo proprio, se sono di fronte a te, descriverti, partendo dalle cose piccole, come metti le mani quando parli, quando sposti, cioè nel momento in cui mi dici quella cosa lì, stai spostando i capelli, io quelli sono i dettagli. Per me, nella scrittura, i dettagli sono fondamentali. Come ho fatto a capirlo? Leggendo, a me piace leggere tanto, leggo poco, però mi piace proprio, è una cosa che mi piace. E quando mi trovo qualcosa, che mi piace, ma questo lo faccio in tutti i campi della vita, se trovo una ragazza che è vestita bene, mi fermo e dico, mi piace, perché? Cos'ha che mi piace? Stessa cosa per una pagina del libro, mi piace un sacco questa scrittura, cos'ha che mi piace? Questo è un altro consiglio che do a chi sta cercando un po' di trovare il proprio stile. Trovo quello che ti piace e da là, parti. Questo era un extra consiglio, non è il mio punto due. Fuori dai dieci comandamenti. Fuori dai dieci comandamenti. Quindi io notavo che le pagine che mi piacevano dei libri, avevano tutti un sacco di dettagli, mi raccontavano cose molto piccole, il latte, il personaggio che stava bevendo, il latte, che si increspava su, cioè c'era sempre qualcosa che mi catturava, perché dal piccolo partivo per vedere il quadro grande, ma non è che subito vedevo il quadro grande, capito? Quindi secondo me, secondo punto, i dettagli. Ok, faccio un passo indietro che secondo me può essere un perfetto collante, magari uno dei prossimi comandamenti, ma tra ispirazione e dettaglio. Ci deve essere anche una direzione che tu stai seguendo. Una cosa è quando lavori come giornalista, hai un pezzo che ti viene assegnato, un tema che ti viene assegnato che devi assolutamente affrontare e un conto è quando invece lavori sul tuo brand, su te come Lara, per cui a quel punto ce l'hai sempre una direzione o a volte ti capita di partire da un micro dettaglio e mentre scrivi arrivare alla meta? Assolutamente sì, la seconda opzione è che hai detto. Io in realtà sono sempre così, che parto da un'immagine, da una cosa che mi piace scrivere, da una cosa che sento e magari da una cosa che ho visto durante il giorno, che non avevo tempo, ho appuntato super di corsa nelle note del cellulare e alla sera da quell'immagine ci costruisco un pensiero, questa cosa mi succede spesso, quello di non avere la direzione anche quello mi succede, però ho notato che è controproducente, perché un altro dei temi è che tu devi avere i tuoi temi. Eccolo lì. Secondo me se tu scrivi di tutto è un po' come se scrivesse di niente, anche perché ti serve il tuo pubblico, quindi su tutte, devi trovarti la tua nicchia, quindi per farlo devi selezionare di cosa vuoi parlare e a chi lo stai dicendo. I miei due grandi temi nel mio caso sono expat, quindi tutta quanta la comunità della gente che vive all'estero e accettazione dei propri difetti trasformandoli in punti di forza e dentro ci metti il body positivity, ci metti il becoming who I am, quindi diventare la parte migliore di me, eccetera, tutta quella cosa lì va nella seconda categoria e poi c'è expat, questi sono i due miei grandi temi. Se io voglio scrivere qualcosa che non entra in nessuno dei due temi o lo tiro e cerco di farlo entrare da qualche parte o se no lo faccio, cioè se voglio scrivere di una cosa lo faccio lo stesso in modo consapevole che non sarà uno dei miei temi ma sai che va bene anche così a un certo punto è una cosa che mi provoca emozione? Sì, quindi questo già giustifica il fatto che ne posso scrivere, questo è il mio proprio lascia passare. Emozionante? Sì, no, da là capisci, però la domanda iniziale tua era, mi sono un po'... Se ti capita di partire dal dettaglio e poi trovare la direzione. Quello sicuramente sì, però ecco, secondo me anche le tematiche di cui scrivi una scelta giusta va fatta. Quindi individuare quelle che magari attraverso delle parole chiave o parole chiave o frasi chiave due o tre o anche una sola tematica che ci rispecchia particolarmente, rispecchia noi il nostro brand, il nostro servizio perché poi uno può scrivere per scopi diversi e ricordare che quello è il nostro punto di partenza per l'ispirazione. Mi piace anche il fatto di dire vabbè, se mi capita di pensare a qualcos'altro lo scrivo e basta sapendo che se possibile lo collego a quello che è il mio tema predominante altrimenti lo scrivo e basta perché vuol dire che l'ispirazione mi sta parlando. Passiamo, quindi questo era un terzo comandamento che però non avevo inserito nei dieci comandamenti Ok, quindi passiamo al terzo. Passiamo al terzo, il terzo è usare un lessico tuo, quindi non frasi fatte e non fuffa io non voglio la fuffa io quando vedo un post di gente che mi tiene che usa tre minuti del mio tempo per arrivare in fondo e non dirmi nulla mi arrabbio cioè dammi passami un messaggio lasciami qualcosa mettimi nella condizione di migliorare non dico la mia giornata ma fai in modo che quei tre minuti siano qualcosa che mi dà qualcosa capito? Quindi anche a livello di stile di scrittura concreto non solo perché hai più engagement esatto del lettore non solo per quello ma anche perché proprio è una cosa vera cioè fammi sentire che cioè crea il tuo stile ma parlami dammi un messaggio parlami di qualcosa quindi crea uno stile tuo senza fuffa questo mi metterei come terzo comandamento possiamo aggiungere che non è detto che lo trovi dall'oggi al domani ma di è un lavoro di anni è un lavoro di anni e ti dirò un'altra cosa è un lavoro che non finisce mai perché comunque sai quante cose influenzano il modo in cui scrivi alla fine scrivere è un po' come cantare è un po' come stare sul palco sei nudo non hai filtri che dici io una volta cantavo in un coro gospel e mi ricordo che mi facevano mi riprendevano e nel momento che mi toccavo i capelli si vedeva cioè si vede tutto anche quando scrivi si vede tutto forse hai un po' meno hai un po' più filtri perché le parole magari ti possono un po' nascondere però se sei tanto se un lettore è un po' sgamato ti sgamma se tu scrivi le cose false e poi non passano perché anche lì secondo me è l'emozione che ti frega cioè non hai la stessa emozione e quindi sì questo sarà uno dei prossimi punti ma essere veri quindi per cercare lo stile poi come si fa tra l'altro cercare lo stile devi leggere tanto devi capire cosa ti piace cosa non ti piace devi capire qual è il tuo obiettivo tu perché stai scrivendo perché da lì poi anche lo devi cambiare cioè è uno stile funzionale al tuo obiettivo quindi in base all'obiettivo che hai e allo strumento è chiaro che se uso twitter o che ne so una cosa che non riuscirei mai ad utilizzare nemmeno io però ecco è importante anche trovare un po' un compromesso per tutti questi aspetti mi veniva un'altra domanda ma non voglio interrompere i comandamenti no vai vai col quarto andiamo con il quarto te l'ho un po' anticipato essere veri perché i social non sono un luogo dove mostrarsi felici ma vulnerabili e quindi questo fatto che alla fine ci ricolleghiamo a quello che avevano detto dell'essere nudi allora quante persone tristi vedi sui social? nessuno quelle poche che hanno il coraggio di dire qualcosa di triste o di in maniera magari poco filtrata di solito rischiano di incorrere nel famigerato unfollow c'era un video che era diventato virale che era stato fatto proprio sulla sulla falsità di questa di questa felicità costante sui social talmente falsa che a volte costruisci delle foto delle immagini che non esistono apposta per far vedere una cosa perché appena fai vedere qualcos'altro cioè che hai una vita normale potresti non essere più interessante questa cosa è sbagliata è sbagliata di base ed è nella normalità che devi trovare l'eccezione perché se tu cominci a creare la vita proprio da influencer classico cioè faccio la foto le hai viste quelle che fanno le foto tutte quante super in posa poi magari neanche mangiano perché l'obiettivo era mostrare una cosa che non c'è ecco io sono molto distante da quella cosa lì sono molto più vicina a farmi un selfie senza trucco la mattina dicendo ragazzi ciao questa è la mia vera faccia dove non ho le sopracciglie dove non ci ho messo mezz'ora in bagno a truccarmi cioè essere vulnerabili capito e mostrare che non c'è niente nel male nell'essere vulnerabile nell'essere triste nell'avere una giornata no nel io ho avuto molto più ritorno anche dalla gente quando ho mostrato la realtà e delle cose che magari anche come donna ti fanno sentire male per x motivi per mi ricordo una volta un post che è successo questa cosa ti ricordi tutto il movimento me too sì prima che succedesse il movimento di più di più di più me too ma poco prima tipo due settimane prima io raccomando è come se la stessi sentendo c'era un po' un'aria nel campo temi femminili dove le donne cominciavano a dire eh ma noi non vogliamo più essere trattate in questo modo cominciamo a sentire un po' l'aria che stava cambiando ma non so da dove mi arrivasse questa cosa e una domenica pomeriggio alle 4 come ti dicevo prima ho raccontato questo episodio che mi è successo anni fa che era una cosa molto personale che non avevo raccontato praticamente a nessuno e raccontai questa volta in cui un collega ci provò in macchina con me io ero molto a disagio e avevo moltissima paura e non sapevo come uscirne da questa situazione poi andò bene non successe niente però l'effetto che fece su di me questa cosa ebbi la cioè in quel momento quella domenica l'ho detto sai che c'è ora provo a scriverlo ed era una cosa che mi pesava mi pesava perché ti metti in una posizione cioè non è una violenza però lo è e ti metti coinvolgi tante persone perché i miei genitori quando arrivai a casa quella sera loro si ricordano l'episodio il mio ragazzo se lo ricorda l'episodio quindi per la prima volta metti nero su bianco una cosa che che ti è successa e mi è costato fatica perché era un po' come riviverla quindi mi ricordo che nel momento in cui lo stavo scrivendo avevo le mani che sudavano esattamente come quando ero in macchina col tipo era proprio là capito oddio e come riscrivendone era come riviverlo e quel post là ha fatto una cosa come 2000 like ma 2000 like per una roba che mi è successa in macchina con uno capito che per me 2000 like sono tanti come ritorno e mi ricordo che finiva il mio post finiva che cosa succederebbe se tutte quante avessimo il coraggio di denunciare il momento in cui ci siamo sentite che qualcuno ci ha mancato di rispetto due settimane dopo scoppia il me too quindi questa cosa qua mi vengono i brividi perché dico wow era un precursore e non lo sapevo nel senso Lara voglio collegarmi a una cosa che hai detto ma prima adesso ho un sacco di domande che sono tipo con la puntina sti in fronte spero di ricordarmeli tutte ma prima voglio che descrivi un pochino che cos'è questo movimento me too per chi anche se credo siamo in poche non l'ha mai sentito successe era a settembre mi pare settembre-ottobre di due anni fa e Weinstein è produttore di Los Angeles che è appunto mega produttore capo di un sacco di produzioni cinematografiche grosse venne fuori questo scandalo che venne denunciato da un sacco di attrici che dissero noi per fare i film dovevamo passare prima per la sua camera di hotel e quindi il fatto il movimento me too viene chiamato così nel momento in cui me too anche a me è successa questa cosa non solo nel cinema ma anche in quanto segretaria in quanto donna delle pulizie e c'è stata proprio questa ondata mondiale perché poi è partita in America ma in Italia è stata tradotta con quella volta che quella volta che non mi hanno mancato rispetto quella volta che eccetera e nel momento in cui è stato lanciato questo doppio hashtag quindi nel nostro caso italiano e internazionale c'è stata una risposta di donne di tutte le età tutte le etnie che hanno proprio risposto mostrando e anche con dei racconti molto personali e molto toccanti tutti gli episodi di violenza che passano poi sotto silenzio alla fine perché ti senti tu la vittima quando non è così assolutamente o la causa addirittura esatto quando tu hai raccontato questa cosa hai lanciato un'azione finale prima hai parlato dell'incipit dell'inizio e ti chiedo l'azione con cui o l'invito con cui lasciamo il lettore è altrettanto importante o a volte lo ometti è importantissimo io a volte lo ometto perché a volte racconto delle cose mie personali che quindi si chiudono anche questa in realtà era una cosa personale però ero cosciente che era una cosa che come è successo a me può succedere a te può succedere a chiunque e quindi è un mio fatto personale che però potremmo ipoteticamente avere in tante in comune se ti racconto la volta che sono andata a fare shopping magari per farti fare anche una risata non metto la call to action alla fine se è una cosa forte la call to action si la metto ok e magari se non è una call to action è un pensiero che chiude con un pensiero che comunque esula da me dalla mia esperienza personale ma invita la riflessione ok siamo al quinto o al quarto? siamo al quarto è lunga è lunga allora quarto punto no siamo al quinto grandissima scrivere per immagini con musicalità quindi mica facile hai detto niente hai detto niente scrivere per immagini un po' ti torna a quello di prima del ricordarti i dettagli un po' no i colori come dicevamo quindi cerca di quando stai vivendo una cosa e ti rendi conto che è una cosa che ti sta ispirando fermati questa cosa mi sta ispirando benissimo quali sono i dettagli che mi stanno ispirando la luce che entra dalla porta i colori del muro annota tutto mentalmente come se tu facessi una fotografia a quella cosa lì perché poi quella cosa lì tu la devi descrivere quindi scrivi scrivi per immagini a me è successo e chi va in giro con me lo sa che a un certo punto dicono no fermiamoci perché adesso devo scrivere tipo mi succedeva in un viaggio a New York dove ogni tanto tipo mi isolavo ma anche ho fatto questo viaggio con dieci persone con dieci amici eravamo un gruppo grosso e ogni tanto mi isolavo dalla conversazione magari non so in metro e mi mettevo in un angolino e cominciavo a scrivere e i miei amici l'avevano capito e mi dicevano ah stai scrivendo perché tipo come se fosse quasi una colpa perché c'era qualcosa che mi ispirava la cosa migliore sarebbe scriverne subito perché se tu fai un'immagine visiva e poi la descrivi o sei bravo a tenertela in mente o se no è meglio se la scrivi subito ma questo vale anche per non so ti succede una cosa spiacevole di cui vuoi raccontare l'emozione appena successa è molto più forte che magari se lo scrivi alla sera o se lo scrivi il giorno dopo quindi questo anche dell'immediatezza della scrittura però sì le immagini importante e si richiama anche il discorso che deve essere come un film e la musicalità appunto perché comunque io faccio tante frasi corte e ripeto tanto le parole che può essere molto noioso come principio però alla fine è un po' il mio stile e tu quando scrivi ti devi divertire c'è niente da fare se tu non ti diverti perché lo fai non farlo anche questo è importantissimo perché poi c'è questa quando facciamo copywriting ad esempio c'è questa regola secondo la quale è importante giustamente che non sia soltanto una scrittura autoreferenziale io 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 scrivi per gli altri però se scrivi solo per gli altri della serie allo scopo di ottenere il mi piace ottenere la vendita ottenere il click o quello che è vai all'estremo opposto quindi mi piace molto che hai ricordato che dobbiamo trovare un po' la via di mezzo e se non è una cosa che ci ispira o che ci diverte difficilmente riusciamo ad ottenere qualcosa no il divertimento è una cosa fondamentale poi l'io a livello commerciale è una cosa che purtroppo funziona e comunque i social sono una cosa voyeristica quindi tu vuoi spiare le vite degli altri se ti racconto una cosa generica con una foto di un paesaggio la gente non è tanto interessata quanto alla mia foto che piango per dirti no cioè è molto più quello che dicevamo un po' anche prima un po' il grande prima microfoni spenti peraltro è un po' il grande fratello quindi tu vuoi entrare nella vita degli altri quindi devi dare il permesso agli altri di entrare nella tua vita e su questo mi fermo perché c'è questa distinzione a cui io tengo tantissimo tra personale e privato che spesso è uno dei motivi per cui le persone non cominciano neanche ad utilizzare questi tools questi strumenti o magari si bloccano o qualunque cosa stiano scrivendo perché temono non vogliono parlare di loro un po' perché temono di non risultare interessanti ma questo lo stiamo un po' smascherando questa paura stiamo scoprendo come esserlo ma anche per la paura o per il non desiderio di mettere insomma l'espressione qual è di lavare i propri panni sporchi in piazza esatto tu riesci a trovare un equilibrio perfetto perché quando io ti leggo non scendi mai nella sfera privata ma parli di te a livello personale e questo succede perché io odio le gabbie e quindi se io dovessi crearmi un metodo di racconto dove io ti spiattello tutta la mia vita sarei costretta a farlo sempre e quindi questa costrizione mi metterebbe all'interno di una gabbia nella quale non voglio assolutamente mettermi cioè io voglio avere la libertà di poter andare a fare la passeggiata senza che debba dire oggi sto facendo la passeggiata capito quindi ed è per quello che nei miei social non vedrai facevo all'inizio ma ora non lo faccio più le foto con il mio fidanzato non le metto perché comunque la scelta di essere sui social è mia e non sua quindi io non voglio cioè se ci facciamo un selfie se ci facciamo un selfie io e te oggi io prima di pubblicarlo te lo chiedo perché non voglio comunque capito che le mie scelte sfociano nelle vite degli altri soprattutto nelle persone che mi vivono intorno ed è per questo che niente cambia per me niente cambia per loro liberi tutti e quindi la scelta della privacy è una scelta importante se devo raccontare un fatto che mi è piaciuto che mi ha ispirato che ha coinvolto un'altra persona magari non gli chiedo il permesso perché se glielo chiedo magari mi dice di no quindi me ne sto zitta e buona e scrivo lo stesso però cambio il nome in modo che la persona non sia riconoscibile oppure metto dei dettagli un po' fake in modo che la persona soprattutto se sono dei temi sensibili come non so una persona che fa coming out che ne so cioè se sono dei temi sensibili che a me piace trattare che però devono comunque tenere in considerazione la libertà non solo mia ma anche degli altri sesto comandamento vai sesto comandamento le emozioni le emozioni sempre e comunque anche quando stai commentando un fatto di cronaca perché c'è anche questo da dire se tu hai i tuoi temi ben chiari in testa expat per esempio nel momento in cui un ministro a caso fa una dichiarazione tu ti devi trovare pronto a parlarne capito e però lo puoi fare solo se in te quella dichiarazione è una scatolita un'emozione perché altrimenti rischia di essere magari un editoriale come in un giornale ma molto assettico molto freddo quindi io consiglio le emozioni sempre anche quando parli di un fatto che non ti ha coinvolto più la persona e tu dirai eh bravo è come si fa è molto difficile è molto difficile è forse una delle cose più difficili tu ci sei riuscita molto bene quando hai scritto questa lettera aperta all'ex ministro del lavoro Poletti Poletti e sei diventata praticamente virale in tutta Italia ma perché Poletti ha scritto una cosa cioè ha detto una cosa che mi aveva fatto molto arrabbiare quindi è la mia rabbia che era diventata virale in quel momento perché lui disse era il 2016 ed era il dicembre del 2016 stavo per tornare vivevo ad Amsterdam all'epoca e stavo per rientrare per le vacanze di Natale e lui disse gli italiani che sono andati fuori dall'Italia è meglio che se ne stiano fuori dai piedi e allora anche tu Cecilia hai vissuto all'estero vi hai vissuto all'estero quindi sai il sentimento dell'expat questo è un tema gigante su cui dovremmo dedicare un intero podcast e non ho detto che possa essere una bella idea cioè tu sei via e hai un sacco di mancanze ti manca a casa ti manca la tua terra il cibo e il sole che magari sull'Olanda pioveva sempre i genitori i tuoi amici fai fatica ce la fai lo stesso perché comunque sei da solo hai la sensazione di essere da solo al mondo però ogni giorno vai a lavoro ti sei trovato al lavoro parli tutto il giorno in inglese ti paghi l'affitto cioè comunque ce la fai con una fatica devastante e un ministro del lavoro ti viene a dire statevene fuori dai piedi io come momento non ci ho più visto cioè proprio non ho più ragionato e ho scritto appunto una lettera a lui dicendogli caro ministro vengo anche lei a vedere quanto bene si sta all'estero che poi si sta bene però comunque con le difficoltà e quindi questa cosa qui è stata intercettata da un sacco di italiani che vivono all'estero dalle famiglie che vivono in Italia che hanno figli che vivono all'estero e questa cosa è stata molto condivisa e si è andata è stato il mio primo caso di quando un posto è diventato virale quindi non c'è una regola purtroppo una formula per giocare di emozioni bisogna sentirle le devi sentire le devi sentire è una cosa che ti deve toccare sul vivo questo poteva essere una cosa settica una dichiarazione di un ministro non lo diventa nel momento in cui mi vieni in casa e mi dici tu che te ne sei andata dall'Italia statene fuori capito ed è per quello è per quello che il posto è andato bene perché era pieno di emozioni ed era palpabilissima era proprio una cosa che potevi proprio sentire e mi viene da collegare però questo alla chiarezza dei tuoi temi perché se non avessi magari scelto il tema expat come un tema che ti tocca così da vicino e che senti così tuo magari quella dichiarazione avrebbe suscitato un'emozione diversa quindi torniamo al fatto di essere comunque chiari rispetto a quelli che sono i valori che vogliamo comunicare il messaggio che vogliamo comunicare senza rischio di diventare ripetitivi perché poi ogni tema può essere affrontato da mille angolazioni e come ben sappiamo possono arrivare anche degli imprevisti che ci aiutano in questo settimo comandamento incipit e chiusura ecco ne abbiamo già parlato però fa bene ripetere l'incipit è in media stress è quello che dicevo prima ed è praticamente iniziare a raccontare un fatto già come se ci sei immerso ci sei già in mezzo non è questa mattina mi sono alzata alle 8 e poi mi è successo che mi sta succedendo in questo momento sono qui in me giro e scopro che c'è un ladro non lo sto dicendo a caso quindi l'incipit proprio che ti trascina perché è il discorso di prima io ti devo tenere con le prime dieci parole se io ti ho perso con le prime dieci parole sei andata ti ho perso capito ed è questo per cui ogni tanto se vedo che le cose non vanno cambio l'incipit cambio solo l'incipit la chiusura call to action benissimo ma anche là lasciare io ti devo lasciare qualcosa in bocca quando finisci di leggermi perché se io faccio un bel l'incipit racconta una bella storia ma poi si chiude anche se ti do un messaggio ti lascia un po' sospeso ti devo portare alla conclusione quindi tu te ne devi andare con cioè quando finisci il mio post devi avere o la voglia di saperne di più o il dire caspita questo è un bel concetto ci devo ragionare oppure caspita questa è una bella cosa la devo mettere in pratica tipo tanti post miei parlano soprattutto in questo ultimo periodo di body positivity che è una cosa che sentivo meno all'estero perché all'estero c'è un po' l'accettazione sociale ti accetta un po' di più qua lavorare a Milano se tu non pesi 55 kg la gente non ti dice niente e non ti guarda male ma tu sei tranquilla che il tuo stesso senso lo sente che le ragazze bionde, alte, magre lavorano meglio di te che magari sei un comodino con i capelli blu capito e non c'è niente di male nell'essere comodini io ci terresto di sottolineare questa cosa però insomma perché perché io lavoro in un ambiente molto maschilista maschile nel senso dove ci sono tantissimi uomini perché da donna cioè non esiste capito e quindi questa cosa del body positivity alla fine il messaggio finale deve essere guarda che tu vai benissimo così è la società che deve cambiare perché ci sono esempi di società che funzionano dove già sta funzionando l'America è pienissima di modelle curvi che sono strapagate e sono bellissime e sono identiche a me e quindi c'è dove sta il problema capito però lo spunto di riflessione alla fine o l'emozione più forte che la tengo e te la dico alla fine quella si incipita e chiusura chiusura molto importante possiamo dire a chi si ci metta adesso nello scrivere dei pezzi magari non non piace lo stile che sta vedendo di fronte allo schermo o sulla carta di continuare a fare esperimenti anche un po' rischiosi cioè esporsi prima di essere di sentirsi perfetti pronti arrivati perché probabilmente quel momento non ci sarà mai anche a costo di avere un feedback che magari è un feedback critico sfruttare i feedback nel senso che i social sono uno strumento ottimo perché ti danno una visibilità e un ritorno immediato tu non devi aspettare di uscire nel giornale e poi capire quanto ha venduto e quanto cioè i social se ci pensi per una persona che produce contenuti sono una manna dal cielo perché tu hai un feedback immediato cioè io subito so se io posto una cosa adesso so subito tra un'ora se piace o non piace cioè lo vedi subito e quindi questo è il campo perfetto dove fare esperimenti cioè tu capisci anche il tuo stile lo plasmi in base a quello in base a quanto bene è andato quel post tanto perché cosa c'era in quel post che in questo post che ha fatto 20 like non c'è e quindi li prendi e li confronti e da là cioè impari è proprio un learn in progress cioè giorno dopo giorno impari un tassallo in più e anche questo mi piace molto quindi paragonare te stessa a chi eri ieri e non a qualche straneo su internet che magari ha più likes o più feedback perché questo è veramente un vortice che ti tira giù e ti impedisce di provare perché non ci provi e fa male perché ti sposti dal tuo core business che è l'individualità chi sei tu per cosa sei venuto al mondo e in cosa sei forte tu devi lavorare su quello perché se io guardo è un errore che io ho fatto io una volta mi sono tagliata la frangia dei capelli perché c'era un influencer che mi piaceva che uno dei suoi tratti caratteristici era la frangia corta e allora lei aveva successo ma a lei piaceva ho detto sai che c'è me la faccio anch'io la frangia poi ho scoperto che però avevo la faccia da maialino io con la frangia corta capito e questa cosa bene perché poi la frangia ci mette sei mesi a ricrescere anzi ancora un po' così però bene perché è una cosa pratica che ti insegna una massima universale non copiare gli altri non ti porta da nessuna parte ti porta a avere la faccia da maialino cioè basta prendi ispirazione ma non fare i capelli blu no assolutamente cioè devi fare tu con cosa stai bene con i capelli blu a posto basta non devi copiare nessun altro cioè devi trovare la tua identità e spingere su quella su quella puoi spingere quanto vuoi però perché è una cosa tua e deve essere solo tua copiare l'emulazione secondo me non paga non ti porta da nessuna parte vai di settimo settimo era questo ottavo avere uno stile riconoscibile anche uno dei complimenti più belli che mi fece il mio direttore della voce di New York per cui scrivo qualche anno fa mi disse Lara avrai riconosciuto il tuo pezzo anche se non avessi saputo che era tuo dopo aver letto le prime tre righe io quando mi ha letto questa cosa io volevo correre ad abbracciare a Brooklyn e dire grazie ti fai abbracciarlo perché è un bellissimo riconoscimento io so che sei tu anche se non so che sei tu capito nel senso anche se non vedo il tuo nome scrivi in un modo così riconoscibile che sarai in grado di riconoscerti e qui ci ricollegiamo allo stile quindi quello di cui parlavi prima è la tua voce non lo stile lo stile di scrittura la voce difficilissimo se tu mi dici una cosa che ti sta riuscendo boh forse anche no nel senso è molto molto difficile però è un bello obiettivo si può dire che però in parte sia quasi naturale che avvenga perché nessuno siamo tutti diversi difficilmente oddio da un lato essere riconoscibili senza una foto e un nome è sicuramente difficile dall'altro già partiamo con una marcia a nostro favore cioè il fatto che comunque siamo unici e quindi per forza abbiamo uno stile unico dobbiamo solo enfatizzare l'aspetto che più ci crea ci devi lavorare molto ci devi proprio prenderlo come impegno io voglio che la mia voce sia una voce riconoscibile quello lo fai con lo stile sicuramente ma anche giustamente con le cose che devi dire con i temi che selezioni è molto bello però se ci pensi il concetto che siamo tutti unici che tutti abbiamo una nostra voce unica è che in una massa di persone tu la tua voce si può può spuntare dalla massa e dire una cosa che puoi dire solo tu questa è una cosa bellissima è una cosa proprio che ti dà anche un po' la forza perché poi è vero chiaramente lo possono dire tutti ma gli altri non lo dicono come lo dici tu perché tu hai un vissuto diverso cioè è inevitabile il percorso di vita sono diversi quindi tu dici le tue cose influenzate da quello che tu hai vissuto quindi lasciare andare il desiderio di risultati immediati e praticare 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 che poi diventa anche appunto divertente se lo prendiamo come una sfida e non come un compito in classe che deve essere valutato nono nono fare esperimenti con i lettori quindi postare non aver paura di io sono cioè sono contraria al togliere i post se tu hai fatto un post che è andato male lo lasci là non lo tocchi perché il fallimento è una parte della vita e non muore nessuno per un post che ha due like quindi non lo cancelliamo lo lasciamo lì anche perché nel momento in cui tu hai deciso di postarlo vuol dire che tu ci credevi tu ci credevi sì a posto cioè quello è il fatto di sono d'accordo con te quando dici non risultati immediati anche perché risultati immediati non ce li avrai tra l'altro non ce li avrai a meno che non usi mezzucci nel senso a me un grandissimo giornalista italiano che mi legge su facebook lui mi ha sempre detto Lara scegli la via più difficile la via più lunga non scegli mai la via più corta scegli la via più lunga la via più lunga vuol dire che dovrai scrivere dei post di notte che nessuno si guarderà oppure non so sarai stanca dopo una giornata di lavoro e magari dovrai fare un pensiero che non è quello mainstream capito per me scegliere la via più lunga è non parlare di quello di cui tutti parlano tutti i giorni cioè non fare capito quel tipo di influencer dove ogni cosa dal delitto di cogne a Salvini a tu devi sempre parlare sempre commentare sempre tutto quello che succede secondo me io ci ho pensato in un periodo ho detto ok se faccio questa cosa qua i miei follower vanno su molto di più perché io becco il trending topic del giorno tutti i giorni divento un'opinionista sì ma un'opinionista di che? cioè la tua emozione in quella cosa dove la metti? dove la collochi? non ce l'hai io ho parlato delle cose di attualità nel momento come dicono i polizzi di prima in cui entrano nell'atmosfera personale nel momento in cui la foto di Belen abbracciata non mi ricordo c'era un'altra di Letta e Leotta di Letta e Leotta e Belen hanno fatto una foto abbracciate loro due quindi due super sex symbol la Mora la Biond gli uomini della rete impazziti quella cosa là è una cosa che viene in casa mia perché sono tutte e due rifatte e allora io ti sto dicendo noi ci stiamo prendendo dei modelli estetici che sono falsi che sono silicone e quella cosa lì entra nei miei topic dell'essere valorizzarci migliorarci ma per quelli che siamo e accettarci per quelli che siamo diventare la miglior parte di noi stessi senza voler emulare altri e quindi non ho bisogno di rifarmi il seno la bocca poi magari cioè è anche questo è un tema se vuoi rifarteli te li rifai e va bene e non c'è nessun tipo di problema basta non avere il modello di una bellezza finta quindi anche qua in questo momento in quel momento in cui mi chiesi ma io devo commentare tutti i fatti della cronaca così ho più like e così divento più popolare la mia risposta è stata no io devo stare fedele a me stessa io commento una cosa di cronaca nel momento in cui ho il mio pensiero da esporre cosa ho in più e in meno da dire commentando la caduta del ponte di Genova niente è una tragedia lo speriamo tutti quindi per i like facili devo parlare di una cosa beh no bellissimo la coerenza prima di tutto anche perché è la cosa più sostenibile nel tempo nel senso che appunto ricorrere a mezzucci può aiutarci nel breve termine poi come hai detto tu hai usato il termine gabbia non ci accorgiamo che ci siamo incastrati in una situazione senza uscita o con un'uscita molto difficile perché poi i lettori si creano delle aspettative e quando noi abituiamo chi ci segue a chi influenziamo con le nostre opinioni per loro scelta ovviamente ad aspettarsi che noi facciamo sempre qualcosa relativamente a un topic anche quando non ci parla quando l'aspettativa viene meno magari viene meno anche il follow magari viene meno anche il like e a quel punto buttiamo via le chiavi o buttiamo via le chiavi e restiamo in gabbia per sempre oppure accettiamo di uscire perdendo quello che abbiamo costruito tanto vale forse decidere fin dall'inizio di scegliere una strada diversa decimo e ultimo comandamento ci siamo alla fine vivere che in effetti si collega benissimo a quello che abbiamo appena detto per me è il comandamento più importante tu non sei uno scrittore se non sei uno che sfida la vita tutti i giorni non hai niente di cui scrivere se non ti tuffi sbattendo la testa senza farti male possibilmente però nelle cose andandoci in profondità andando cioè in una relazione sentire il tipo di sentimento ma che sia qualsiasi cosa con i genitori con gli amici con gli amici cioè in qualsiasi ambito ogni volta che ti chiedi ma questa cosa dovrei farla o non dovrei farla ti dirò questa cosa che non è particolarmente bella io a volte faccio delle cose per scriverne tipo faccio un esempio fai a pensare ci sono delle volte in cui dico ma questa cosa è un po' rischiusa da fare però se la faccio caspita ho qualcosa di cui scrivere nel senso è una notizia ed è un pensiero che ogni tanto faccio però tipo quella volta che mi sono spogliata in piazza ad Amsterdam che è una cosa che forse rifarò anche in piazza a Milano piccola preview quella cosa quella volta lì ho detto ok questa cosa qua mi darà delle emozioni perché comunque era per dire un tipo di campagna che si chiamava body love in cui c'erano queste signore anche molto più grasse di me e ci siamo spogliate tipo in intimo al 2 di dicembre con tipo un grado percepito meno 6 e tutta la gente intorno con i cappotti che ci guardava chi sono queste che si spogliano ed era appunto per l'accettazione dei corpi vogliamo dare dei modelli di corpi di tutti i tipi e quindi c'erano le magre e le grasse c'era un po' di gente con cicatrici sulla pancia c'era un po' di tutto e quella cosa là mi piaceva molto il messaggio mi piaceva molto l'evento però ho detto ok quella mi darà delle emozioni e io ne scriverò quindi sì scelgo di parteciparne perché ne voglio scrivere quindi vivere stanno attenti stanno attenti che non diventi anche quella una gabbia quindi fare qualcosa che comunque risponde ai nostri valori mi viene da dire per forza perché magari buttarsi dall'aeroplano perché così qualcuno ci dice ah bravi fantastici non è forse la cosa migliore io Laura ti ringrazio sono stati 10 comandamenti utilissimi tra l'altro in realtà sono 12 o 13 perché qualcuno ha qualcuno è stato aggiunto ti chiedo ti faccio un'ultima domanda quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te per Impact Girl ah questa è una bellissima domanda anche difficile io potessi scegliere una persona di intervistare io vorrei tantissimo di intervistare una bambina mi piacerebbe allora i bambini hanno il dono di avere un pensiero molto più pulito del nostro io penso che una ragazzina a 9-10 anni è l'Impact Girl del domani quindi cosa vuole diventare da grande una bambina mi piacerebbe però questo sarebbe non è un'intervista è un esperimento sociologico questa cosa che ti stavo rupendo è una cosa che tu chiedi alla bambina ma tu io parlerei le farei domande da grande le chiederei secondo te qual è il ruolo della donna dove ti vedrai tra trent'anni ma secondo te capito questa cosa qua io sarei curiosa di vedere la figura femminile le donne dell'impatto del domani andandola a prendere prima che arrivino capito quindi questo se tu mi dici ti vai a intervistare qualcuno domani io comincerei con i casting per trovare la bambina giusta da intervistare chissà che non sia un progetto che portiamo avanti insieme sarebbe bello sarebbe bello perché secondo me è anche questa una cosa molto importante avere l'idea chiara fin da subito di cosa vuoi diventare questo è un altro dei temi belli anche perché forse nel mio percorso sono più felice quando mi avvicino all'idea di donna che volevo diventare quando ero adolescente perché l'adolescente dicevo a trent'anni io sarò così quando mi avvicino a quell'immagine là io sono felice e quindi è anche per questo che ti dico questa cosa della bambina perché secondo me nel percorso del cercare la felicità questo dell'essere in contatto con i tuoi sogni di bambino o di adolescente cioè entro i 14 anni secondo me questa è una cosa molto diciamo tra i 10 e i 14 anni è una cosa molto bella se tu mi dici una ragazza nel campo di Impact Girl eccetera io direi Annie Mazzola che è questa questa influencer che ha appena seguito il festival di Sanremo come volto dei social di Rai Uno e che ci è arrivata solo grazie alle sue stories di Instagram che è uno strumento che io non uso poi così tanto e non così bene come lei però insomma io direi Annie Mazzola ci metteremo al lavoro per creare sia l'esperimento sociologico che per raggiungere Annie Mazzola e cercare di averla qui ad Impact Girl ma prima di tutto anzi per concludere ti ringrazio Lara per essere stata qui con noi è stata una chiacchierata stupenda super pratica ragazze spero viate preso appunti altrimenti riascoltatevi tutto no sto scherzando perché sotto l'episodio troverete come sempre se guardate l'episodio dal sito web bit-academy.it slash podcast troverete tutto il minutaggio e i 10 comandamenti o 12 o 13 che siano segmentati minuto per minuto così che possiate andare a riascoltarvi quello che vi interessa di più io vi aspetto alla prossima puntata di Impact Girl ciao grazie questo è tutto per la puntata di oggi spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl